Padre Giorgio Carbone, Raffaella Frullone contro l'uomo. Grazie a tutti. E' una serie televisiva in cui lui faceva il cacciatore di taglie, bello e tenebroso, col capello lungo. Ecco, Lamas era un po' sulle prime pagine dei giornali quando erano negli Stati Uniti e i titoli erano che la moglie di Lorenzo Lamas aveva partorito sua nipote. In che senso? C'è questa ragazza che si chiama Shane Lamas, a 30 anni, è nata dal primo matrimonio dell'attore Lorenzo Lamas, è sposata, è già madre di una bambina, poi ha avuto una seconda gravidanza che non è finita bene a causa di alcune complicanze e non può avere degli altri figli. Così, le è venuta in soccorso Shona, che ha un anno meno di lei, quindi ne ha 29, è la quinta moglie di suo padre. I due, cioè la quinta moglie, che ha 29 anni, è Lorenzo Lamas, 57, si sono sposati facendo una clausola che non avrebbero voluto figli. Sapete che lì si fanno i contratti prematrimoniali e quindi lì nel contratto c'era che non avrebbero avuto figli della coppia, proprio perché tra i motivi che lei ha dichiarato, insomma, c'è che lei non voleva avere un figlio, ma voleva provare l'esperienza della gravidanza. Così racconta ad Access Hollywood TV, racconta che appunto non voleva questo figlio, voleva provare l'esperienza della gravidanza, perciò si è proposta a quella che è la figlia di suo marito e così ha fatto. Ha organizzato tutto, l'omeopatia, la riflessologia plantare, il parto in acqua in casa. Ha voluto partorire il 4 luglio, così ha fatto e alla fine di questa vicenda Lorenzo Lamas ha dichiarato sono molto contento perché in questa storia ciascuno ha avuto quello che voleva. mia figlia ha avuto il figlio che voleva, mia moglie ha avuto l'esperienza di una gravidanza che voleva, io ho un nipote e non me lo devo nemmeno crescere. Ora, a parte il fatto che i titoli ovviamente dei giornali presentavano questa storia come un grandissimo atto di generosità da parte appunto della quinta moglie di Lamas nei confronti della figlia dello stesso Lamas, io mi sono chiesta ma da quando la gravidanza è diventata un'esperienza? Cioè, io voglio avere un'esperienza di gravidanza e poi moglio il figlio. Da quando si parla di diritto al figlio? Da quando il figlio ha smesso di essere un dono ed è diventato un diritto? Da quando ha smesso di essere un desiderio pur legittimo ed è diventato un diritto? Da quando la genitorialità è diventata un diritto? E soprattutto, quando ci siamo abituati a questo tipo di terminologia? Ecco, per fare questo dobbiamo guardare un pochettino indietro nel tempo, dobbiamo guardare a quella che è stata la rivoluzione femminista, che ha usato proprio il linguaggio per rivoluzionare i rapporti tra uomo e donna. A un certo punto sono arrivati tutta una serie di termini che prima noi non utilizzavamo. Penso al cosiddetto termine della maternità surrogata, al controllo delle nascite, l'autodeterminazione, l'omoparentalità, il diritto al figlio, il diritto ad essere genitore. Tutti questi termini non sono arrivati a caso nella cultura, nei media che ci bombardano oggi con ogni mezzo tecnologico possibile e immaginabile. A questo punto lascerei la parola a Padre Giorgio, che vi descriverà da dove viene questo linguaggio e vi descriverà che cosa questo significa. E poi vi racconto ancora qualcos'altro. Cari amici, anche i fatti di cronaca recente, poi locale, diciamo molto locale, testimoniano che l'antilingua è molto vivace. L'abbiamo visto sulla nostra pelle. Anche perché sospendere a casa mia significa tu sospendi adesso, interrompere, è sinonimo di interrompere, tu interrompi o fai fra dieci minuti. Non è sinonimo di cancellare, no? Allora, ci sono tanti fenomeni di antilingua. Ad esempio, l'antilingua che si usa per ognuno di noi, quando è piccolo, 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 di età embrionale, fetale, neonatale. Il prodotto del concepimento è un fenomeno di antilingua. Il preembrione, lo vocita fecondato. Un altro esempio di antilingua, Maternità di sostegno, perché non si può dire dobbiamo essere pudichi, non si può dire utero in affitto, ci scandalizziamo, allora si dice maternità di sostegno, oppure se preferite maternità surrogata. Questi sono tutti fenomeni di antilingua, piaccia o no, ci dobbiamo confrontare con esse. Allora, contro l'uomo ci sono tutti questi fenomeni che evidentemente per aver titolato così vuol dire che sono di aggressione all'uomo. Già le volte scorse abbiamo parlato di qualche cosa. Vediamo chi è l'uomo. Perché se non erro, ne abbiamo trattato giovedì o venerdì. Io sono il mio corpo o io sono il corpo? O io ho un corpo? Qual è la relazione che io ho con il mio corpo? È la stessa relazione che io ho con le protesi? Questa è una protesi, eh? C'è la protesi dentaria, la protesi ossea. Allora, qual è la relazione che io ho con il mio corpo? Io sono il corpo o io ho un corpo? Se è vera l'ipotesi che io ho un corpo come ho una protesi, allora io il corpo ne faccio quello che voglio. Il corpo lo produco. Il corpo lo modifico a piacimento. Se invece è vera l'ipotesi, io sono il mio corpo, allora io mi identifico con il corpo. Qual è l'ipotesi vera? Facciamo un argomento a contrario. Immagina di subire, di ricevere un appellativo infamante su alcune porzioni del tuo corpo. La percezione dell'infamia è uguale a quella che potrebbe essere rivolta a una parte del tuo vestito, all'acconciatura dei capelli, a una tua protesi come gli occhiali. Quando ognuno di noi riceve un aggettivo infamante nei riguardi del proprio corpo, sono io che mi sento interpellato. segno che io sono il mio corpo, io mi identifico con il mio corpo. Dunque, la relazione tra me e il corpo non è allo stesso livello, non è assimilabile alla relazione esistente tra me e il vestito, tra me e anche una protesi dentare, una protesi ossea. Cioè, che io sia il mio corpo è un'evidenza. Le evidenze non si dimostrano, si mostrano. Mi seguite? Allora, il problema capitale oggi è che stiamo perdendo la conoscenza dell'evidenza. non solo, ma stiamo, siccome abbiamo iniziato a usare un linguaggio inquinato, l'antilingua di cui ha parlato prima Raffaella, e lo inquiniamo tranquillamente, perché i dati di cui ho parlato nelle serate precedenti, anziché essere comunicati come dati di esperienza, o meglio, evidenze scientifiche pubblicate su riviste internazionali, sono state presentate come la teoria di un tale. Anche questo è antilingua. Allora, io vi parlerò brevemente, per quanto il brusio lo consenta, di alcune evidenze di carattere scientifico biologico che riguardano noi, cioè l'identità nostra, la nostra identità corporea, perché abbiamo visto che innanzitutto partiamo dall'evidenza che io sono il mio corpo e che io non ho un corpo. Quindi, io mi identifico con il mio corpo, fin tanto che c'è il mio corpo come realtà organizzata, vivente, che moltiplica le sue cellule, le specializza, io ci sono. Allora, da quando ognuno di noi è? Ognuno di noi, da quando è? da quando entra in atto quel processo relativamente lungo del concepimento. Il processo del concepimento dura dalle 12, nella specie umana, dura circa dalle 12 alle 15 ore. Ed è un processo che il cui risultato finale è la fusione del citoplasma dell'ovocita con il citoplasma dello spermatozoo. Quindi i protagonisti del processo di fecondazione sono due. Sono i gameti di mio papà, cioè lo spermatozoo, e l'ovocita di mia mamma, che si incontrano attraverso questo processo lungo che prevede l'attivazione di enzimi, di sostanze chimiche, di proteine, che si compie nelle vie genitali materne che servono, sono anche questo percorso relativamente lungo per i gameti, cioè in particolar modo per lo spermatozoo, relativamente lungo, è funzionale all'incontro, alla fusione dei citoplasmi. Non appena i due citoplasmi si fondono, avviene un fenomeno che si chiama onda calcio. È, come diceva il mio maestro, una scossa rossa elettrica che si ripete, si propaga in modo ciclico all'interno di questa nuova cellula e attiva tutti i comparti cellulari. l'onda calcio determina diversi fenomeni. Innanzitutto la membrana esterna della cellula, cioè dell'ovecita, diventa impermeabile all'ingresso di altri gameti maschili, di altri spermatozoi e così si impedisce la polispermia, cioè che un'ovoscita possa essere fecundato da più spermatozoi. poi l'ovoscita materno quando viene espulso dal follicolo ovarico contiene è diploide, non è aploide, cioè contiene due patrimoni cromosomici, cioè contiene la coppia cromosomica integrale, però si trova in un processo arrestato della meiosi. Questa coppia si separa e i 23 cromosomi che sono superflui vengono espulsi dalla membrana. Quindi all'interno del citoplasma rimangono il nucleo dello spermatozoo il quale ha perso, ha dissolto il suo scarsissimo citoplasma e il nucleo di quello che un tempo era l'ovoscita. l'onda calcio fa in modo che i due ex nuclei si avvicinino e si appaiano. Una volta che si sono appaiati si forma il nostro genoma, cioè il DNA. Dopo circa 6-12 ore la cellula duplica se stessa. si passa dalla fase nella quale ognuno di noi è costituito da un'unica cellula e si chiama zigote alla fase nella quale il nostro corpo è costituito da due cellule e poi ad un ritmo abbastanza sostenuto le cellule si moltiplicano si specializzano e iniziano a formare il corpo umano come lo conosciamo noi. Il corpo umano come lo conosciamo noi è già tutto formato dovrà solo crescere svilupparsi alla nona alla settima settimana cioè intorno al cinquantesimo giorno dal concepimento il corpo umano è già tutto fatto. Il momento decisivo dal punto di vista biologico sembra essere la fusione dei citoplasmi questa è l'ipotesi più probabile dal punto di vista biologico. Allora siccome è stato detto che quelle di carbone sono teorie invece queste sono evidenze scientifiche allora io vi rimando ed è stato detto poi anche scritto sui giornali che carbone non cita i dati allora per cortesia tutti coloro che sono interessati ai dati leggano il libro l'embrione qualcosa o qualcuno lì si trovano tutti i dati anche i colleghi giornalisti leggano i libri abbiano la pazienza di leggere i libri in genere sono ben documentati come mi dicono i colleghi che insegnano bioetica trovano tutti i riferimenti di facile anche consultazione quindi non mi si venga a dire che carbone non dà i riferimenti se qualcuno non volesse comprare quel libro evidentemente tutto libero trova tutto assunto molto bene già tradotto dall'inglese all'italiano quindi la pappa fatta nel manuale di biologia dello sviluppo di Scott Gilbert che è il top della ricerca scientifica su questa materia edito da Feltrinelli quindi facciamo pubblicità anche a un concorrente finita la pausa pubblicitaria dobbiamo dire che parliamo dell'identità sessuata quando è che si forma l'identità sessuata quando che cos'è che determina l'identità sessuata nella specie umana esistono due identità sessuate no maschile e femminile e come si distinguono dalla coppia cromosomica cosiddetta 23 che nella femmina della specie umana è XX nel maschio della specie umana è YX la differenza quindi sessuata è determinata dall'assenza o dalla presenza del cromosoma Y cioè ritorniamo al processo di fecondazione se al processo di fecondazione premetto che l'ovoscita materno è sempre portatore di X il cromosoma 23 contenuto negli ovosciti è sempre X nel nucleo dello spermatozoo può essere contenuto un cromosoma 23X oppure un cromosoma 23Y quindi se i protagonisti del processo fecondativo sono un'ovoscita che è sempre X e uno spermatozoo che in questo caso diciamo essere X l'embrione concepito quindi l'essere umano concepito sarà XX dunque sarà femmina se invece al processo di fecondazione partecipa uno spermatozoo che è portatore del cromosoma 23Y allora l'essere umano concepito sarà un maschio dunque possiamo emettere la prima conclusione molto grossolana il fattore determinante la differenza sessuata nella specie umana è la presenza assenza del cromosoma Y per modo di dire perché poi ci sono dei problemi oggi si conosce il tratto della Y contenente il gene determinante il sesso si chiama SRY l'attivazione dei geni lì presenti determina la differenziazione sessuata a livello gonadico e a livello ormonale cioè una volta che si è formato il patrimonio genetico nelle settimane che quindi abbiamo visto che si forma dopo poche ore dalla fusione dei citoplasmi dopo poche settimane si attiveranno questi geni e le gonadi le gonadi sono le gonadi mature per la donna sono le ovaie per il maschio sono i testicoli l'essere umano di età embrionale quindi prima delle sei settimane dal concepimento ha i tessuti gonadici indifferenziati sarà il maschietto che li differenzia più velocemente già a partire dalla sesta settimana sotto la guida del tratto SRY del cromosoma Y che differenzia quei tessuti gonadici in testicoli i testicoli iniziano a funzionare e producono il testosterone e l'ormone antimuglierano la produzione di questi ormoni in modo costante differenzia tutti i tessuti dell'essere umano di età embrionale fetale in maschile oggi sappiamo anche che attraverso il traffico avete mai sentito parlare del cross talk materno materno embrionale qualcuno evidentemente in modo eccellente dato che c'è una professoressa di biologia quindi saprà molto più di me il traffico cellulare di segnali chimici proteici di fattori di crescita tra madre e embrione oggi si sa che inizia già quattro ore dopo il concepimento già quattro ore dopo il concepimento l'essere umano inizia a lanciare dei messaggi alla madre in particolar modo all'ovaio il tessuto di riferimento è all'ovaio perché l'ovaio materno inizi ad aumentare la produzione innanzitutto di progesterone che è l'ormone che favorisce l'annidamento poi aumentare la produzione di alcuni fattori che serviranno da alimentazione per l'embrione stesso è come dire l'embrione umano detto in modo molto semplice quindi non strumentalizzate questa espressione è come se la mamma è come se il figlio dicesse alla mamma mamma preparami la culla che è il grembo materno mamma aumenta la produzione di sostanze per nutrirmi detto fuori in termini molto grossolani ma sono tutti fattori chimici che iniziano a dialogare con il corpo materno per favorire la gravidanza tra questi fattori si sa già oggi già da quattro anni si sa che inizia un processo di informazione dall'embrione verso la madre ai fini della montata lattea perché se l'embrione è maschio la montata lattea sarà molto più densa se l'embrione è di sesso femminile la montata lattea sarà per produrre un latte molto più fluido questi dati sono di una bellezza suscitano uno stupore commovente allora questi dati andrebbero fatti conoscere divulgati per conoscere chi siamo noi perché il corpo mio sono io se la conoscenza di questi dati fosse maggiormente diffusa sicuramente molti attacchi all'uomo non si verificherebbero o comunque il danno sarebbe molto ridotto prendiamo un esempio alcune delle persone che promuovono la prospettiva di genere e faccio nomi e cognomi cioè John Money in Amore mal d'amore a pagina 46 e Anna Fausto Sterling con l'articolo perché i cinque sessi non bastano più pubblicato in The Science nel 1993 sostengono il cito il sesso cromosomico del bambino è irrilevante fine della citazione capite se il sesso cromosomico del bambino è rilevante vuol dire buttare a mare tutte quelle evidenze scientifiche della biologia dello sviluppo vuol dire buttare a mare anche le indagini genetiche che vengono fatte perché John Money dice che il sesso cromosomico del bambino è irrilevante amore mal d'amore pagina 45 perché perché ha bisogno di dare al suo interlocutore una nuova accezione del genere il genere non è più il sesso non è più sinonimo di sesso ma il genere e il ruolo socio-psicologico intercambiabile a volontà dunque propone John Money e Anna Fausto Sterling con i loro epigoni propongono detto in termini molto popolari l'uomo pongo cioè l'uomo malleabile e quindi modificabili a piacimento dove l'identità corporea è completamente irrilevante questa è la sfida quindi impari cedo la parola a Raffaella perché ora questa è la sfida possiamo davvero prescindere dal dato biologico possiamo davvero dar credito a chi sostiene afferma e conferma che il sesso cromosomico sia irrilevante per la persona padre Giorgio ha citato il caso del dottor Money e prendo spunto da questo per raccontarvi una storia che è il primo caso di esperimento sul gender condotto proprio dal dottor Money che è il caso dei gemellini Reimer un caso che sempre per far pubblicità la concorrenza è stato raccontato in un volume che è stato tradotto in italiano che si intitola Bruce, Brande e David il ragazzo che fu cresciuto con una ragazza del giornalista John Colapinto tradotto in italiano per la San Paolo nel 1965 nascono in Canada questi due gemellini Bruce e Brian tutti e due hanno un piccolo problema di fimosi al pene per cui si rende necessaria una circoncisione la data fissata per l'operazione è una mattinata di gennaio e c'è una fortissima nevicata su tutta la città nevicata che provoca un blackout tanto che il cauterizzatore che opera il primo dei due bambini praticamente trancia e brucia interamente il pene del primo gemellino ovviamente il secondo bambino non è stato operato va da sé Bruce torna a casa con la sua famiglia era piccolino a due anni e con i suoi genitori disperati perché ovviamente si rendono conto della situazione drammatica in cui versa il figlio mentre sono a casa una sera questi due genitori poco più che ventenni vedono in televisione il dottor Money il dottor Money era già allora parliamo della fine degli anni 60 uno dei ricercatori più stimati e rispettati nonché pioniere nel lavoro sulla disforia di genere e aveva fondato tra l'altro guidava questa clinica per la chirurgia transessuale in Baltimora a Baltimora e si occupava principalmente di casi di persone affette da ermafroditismo e loro vedono questo medico molto brillante in televisione sentono parlare per la prima volta di identità di genere e sentono questo medico questo luminare della scienza affermare che era possibile una riassegnazione sessuale perciò decidono di contattarlo ovviamente il dottor Money non vedeva l'ora di avere a che fare con una storia del genere perché aveva un bambino maschio che poteva trasformare tra virgolette in femmina e il gemellino che restava maschio con cui fare il confronto e quindi i genitori ci vanno il medico spiega loro che avrebbero potuto tranquillamente trasformare Bruce in una bambina ma che lui avrebbe potuto trasformare in una bambina ma ci voleva la loro collaborazione bisognava che si facesse un lavoro culturale lui ha chiesto ai genitori di crescere questo maschietto come una bambina di vestirla come una bambina e di trattarla come se fosse una bambina il nome non so chi l'abbia deciso comunque l'hanno chiamata Brenda e il dottore ha detto ai genitori così avrà una vita felice adesso vediamo la vita che ha avuto Bruce nei primi anni questi due genitori si buttano a capofitto facendo quello che il dottore aveva chiesto loro vestono il bambino da bambina le regalano regalano le bambole cercano di trattarlo diversamente dal fratellino tuttavia fin dall'inizio si rivelarono degli sforzi inutili perché il bambino era irrimediabilmente attratto dai giochi del fratellino e nonostante non avesse appunto il pene tendeva a fare la pipì in piedi situazione peggiore andando a scuola quella che per tutti è Brenda ha degli atteggiamenti molto violenti viene bocciata non riesce ad entrare in relazione né col gruppo delle femmine né con quello dei maschi e quindi fa molta fatica nelle relazioni nel frattempo periodicamente i due gemellini vedevano il dottor Money il quale negli incontri faceva dei confronti tra le genitalità dei due fratelli per mostrare a quella che lui chiamava Brenda che era una femmina poi che era differente dal fratellino che era un maschio la realtà è che la vita di Bruce cioè Brenda peggiora di anno in anno perché diventa un adolescente con dei disturbi a scuola lo prendono in giro e soprattutto non vuole andare dal dottor Money a continuare a fare queste visite poiché erano diventate delle proprie violenze psicologiche quello che vi sto dicendo oltre a essere raccontato nel libro che vi ho citato è raccontato dallo stesso Bruce Brenda che poi diventerà David in un video che è anche stato sottotitolato in italiano non mi ricordo il sito dove si può vedere ma se volete poi ve lo recupero nulla ad un certo punto il papà cede e racconta a quella che per tutti è una bambina che cosa è successo cioè che da bambina che è nato maschio e che tutto quello che è successo è per il dottor Money in quel momento Bruce racconta di aver sentito un grossissimo sollievo perché si è sempre sentito nel corpo sbagliato quindi decide di naturalmente di tornare alla sua origine cioè o meglio semplicemente si toglie i panni di Brenda di dosso si fa chiamare David e comincia la sua vita da uomo ovviamente prova molta rabbia per il dottor Money che nel frattempo stava divulgando e presentando i suoi studi in particolare l'esperimento condotto sui due gemellini come un grande successo quindi faceva ovviamente letteratura in ambito scientifico e continuava ad essere in ascesa la sua carriera David avrà una vita molto difficile perché nonostante si riapproprierà della sua identità nonostante si sposi le ferite che ha subito da bambino da adolescente dal dottor Money non si rimagineranno mai lui ha voluto denunciare la violenza che è stata fatta su se stesso in un libro in un video dicendo come è possibile che questo dottor Money continui a essere accreditato a livello scientifico se non credete a me che l'ho provato sulla mia pelle io sono un maschio e non sarò mai una donna se non credete a me a chi dovete credere e poi aggiunge ma c'è bisogno che uno si spari un colpo in testa finché voi crediate il dramma è che questo ragazzo finirà suicida sparandosi un colpo in testa non solo il fratello morirà suicida perché un abominio del genere distrugge una famiglia la mamma cade in depressione e il papà si rifugia nell'alcol questa è la felicità promessa dal dottor Money un particolare del libro che mi ha colpito molto è che quando lui quando il papà gli dice che era un maschio lui chiede istintivamente qual era il mio nome lui voleva sapere chi era segno che il nome che ci portiamo addosso e la nostra identità di maschio di femmina veramente fa parte come abbiamo appena sentito di ogni cellula del corpo umano queste sono caratteristiche che ci identificano ovviamente non la percezione quella che sembra la storia un po' degli orrori vedo nelle facce un po' insomma sconvolte ha fatto letteratura purtroppo e purtroppo oggi ci sono persone convinte che il genere sessuale possa assolutamente prescindere da questo dato biologico noi abbiamo forse la percezione di un dibattito in atto la verità è che ci sono luoghi nel mondo in cui questa è data come una verità e come una realtà sempre in California ho assistito a una trasmissione che vorrei descrivervi a parte che già questa storia e quello che è successo a David dovrebbe bastare per far capire che quello che è accaduto davvero è contro l'uomo ma contro l'uomo è anche un'informazione fatta male fatta non a servizio della verità menzognera c'è questo storico giornalista televisivo americano che si chiama Charlie Rose che fa una trasmissione dove intervista personaggi VIP ha un format che si chiama The Charlie Rose Show assomiglia un po' vagamente a quello delle invasioni barbariche ogni toto di puntate Rose ne dedica una al tema del cervello ossia le neuroscienze sviluppi progressi scoperte ricerca scientifica odierna questo programma viene registrato a New York negli studi di Bloomberg che è l'agenzia di informazione economica viene trasmesso dalla PBS che è la Public Broadcasting Service che è un network che rappresenta 349 stazioni televisive pubbliche nazionali la puntata che ho visto mentre ero negli Stati Uniti che è andata in onda giugno e io l'ho vista in replica aveva come tema quello dei bambini transgender a moderare la serata insieme a Rose c'era Eric Candle che è uno psichiatra e un neuroscienziato statunitense un premio Nobel 2000 per la medicina cioè non stiamo parlando di una trasmissione minore dove si trovano a confronto due cosiddetti poli opposti in studio c'era Ben Barres che è un docente di neurobiologia alla Stanford University e che si definisce lui stesso transgender c'era Norman Spack endocrinologo pediatrico del Boston Children Hospital Katrin Dulac docente di biologia molecolare alla Harvard University e specialista nei segnali olfattivi dei mammiferi Melissa Hines docente di psicologia alla Cambridge University studiosa dello sviluppo dell'identità di genere e dell'uoro degli ormoni Janet Hyde psicologa dell'università del Wisconsin e studiosa a sua volta del genere e del suo sviluppo uno dei fili conduttori principali di questa trasmissione era questo una persona che nasce nel cosiddetto corpo sbagliato e quindi vuole cambiare genere se lo fa in età prepuberale quindi con iniezioni di ormoni settimanali il cosiddetto passaggio sarà meno traumatico qua è tutta una virgoletta è tutta una virgoletta perché insomma è ovvio che stiamo parlando di affermazioni fuori dalla realtà sarà meno traumatico e avrà meno effetti collaterali ora questa trasmissione è andata in onda cioè su uno dei canali principali americani con dei signori scienziati questo ve lo racconto perché uno dei rimedi che possiamo mettere in atto è quello di non farci ingannare dal pulpito da cui l'informazione ci viene non è che se un'informazione X ci arriva da un giornalone o da una grossa tv allora è per forza giusta allora corrisponde alla verità no non è assolutamente detto per fortuna internet le tecnologie di cui oggi abbiamo a disposizione i libri abbiamo davvero delle grandi possibilità per scegliere le nostre fonti per scegliere dove documentarci per scegliere cosa cercare magari anche per chiedere per chiedere consigli per contattare persone a cui chiedere consigli per verificare le informazioni che abbiamo perché questo è il primo passo per avere uno sguardo lucido sulla realtà perché quando ho fatto zapping dopo aver visto questa trasmissione c'era un documentario che documentava la vita dei cosiddetti bambini transgender quindi si andava nelle case si vedeva questi bambini che avevano sei otto nove anni a cui vengono iniettati gli ormoni affinché cambino genere sessuale come è possibile che noi ci siamo abituati in qualche modo a tutto questo vent'anni fa saremmo saltati sulla sedia oggi siamo sconvolti ma siamo ancora tutti seduti ovviamente c'è un discorso culturale da fare di quello che è successo in Italia nel mondo degli ultimi anni il gender comunque si è imposto nell'agenda mondiale con le due conferenze del Cairo e di Pechino ma non possiamo non citare un saggio profetico che si chiama After the Ball dopo il ballo come l'America sconfiggerà la sua paura e il suo odio verso i gay negli anni 90 pubblicata nell'89 da Marshall Kirk che è un ricercatore neuropsichiatra e Hunter Madsen che è un esperto di tattiche di persuasione pubblica e social marketing in sostanza gli autori dicono cari amici noi parlano della cosiddetta rivoluzione gay e dicono abbiamo fallito perché non siamo riusciti veramente a farci accettare dalla società abbiamo però un'opportunità benché piccola di affermarci come una minoranza vittimizzata questo scrivono loro che merita legittimamente l'attenzione della protezione in America che è l'AIDS loro dicono l'AIDS ci dà questa possibilità perciò stilano una strategia che lavora sul linguaggio quello che abbiamo detto prima per convincere la società intera della bontà delle loro tesi gli autori parlano delle strategie che devono adottare e la prima la desensibilizzazione ovvero come tutti i meccanismi di difesa psicologici spiegano gli autori quello che loro chiamano il pregiudizio anti-gay può diminuire con l'esposizione prolungata all'oggetto percepito come minaccioso bisogna quindi inondare la società di messaggi di un certo tipo in questo modo la popolazione sarà desensibilizzata e percepirà tutto quanto come normale poi c'è il grippaggio una tattica che consiste nel presentare messaggi che creino una dissonanza cognitiva ovvero mostrando soggetti che in qualche modo rifiutano l'omosessualità per motivi religiosi e in questo modo appunto facendo scattare la dinamica opposta la conversione con questa tattica tecnica si intende suscitare sentimenti uguali e contrari rispetto a quelli del bigottismo cosiddetto anti-gay ossia infondere nella popolazione sentimenti positivi nei confronti di omosessuali e negativi nei confronti dei bigotti anti-gay parentesi anche il termine omosessuale fa parte di questa neolingua omosessuale non è non è un modo di definire le persone le persone non si definiscono dalla tendenza sessuale è una cosa che abbiamo cominciato erroneamente a fare negli ultimi anni una persona è definita da quello che è dal suo essere uomo o donna e dal nome che porta identificare le persone e categorizzarle con la loro tendenza sessuale questa è una discriminazione questa è una violenza perché non sono un corpo estraneo sono persone come tutti quanti noi quando mi presento io dico sono Raffaella non dico sono eterosessuale omosessuale anche eterosessuale è sbagliato perché non si identifica una persona dalla tendenza sessuale perché la tendenza sessuale non è determinante perché potrebbe non essere definitiva quindi un altro dei rimedi che secondo me occorre adottare è quello di non cedere a questo linguaggio che viene utilizzato gay ed omosessuale sono due termini differenti il termine gay indica chi ha deciso di adottare un certo stile e rendersi attivo in un certo tipo di battaglia ma è comunque sbagliato anche questo perché le persone appunto non si definiscono dalla tendenza sessuale e nemmeno dal loro attivismo si definiscono per l'essere appunto uomo donna e per chi sono per le loro origini quindi il loro nome un'altra delle tecniche che presentano è quella di dare ai potenziali protettori una giusta causa e quindi dicono non dobbiamo presentare la nostra battaglia come una battaglia per i cosiddetti diritti gay la dobbiamo presentare come una battaglia contro la discriminazione ed è quello che sta accadendo adesso perché nessuno di noi vuole essere accusato di discriminazione poiché scattano i sensi di colpa ecco perché veniamo soprattutto nelle scuole negli ultimi anni soprattutto negli ultimi due da quando è stata adottata la strategia nazionale del ministro Fornero che è arrivata dall'Europa a scuola si stanno moltipline le scuole italiane stanno moltiplicando come i funghi i corsi cosiddetti anti-discriminazione se voi andate a vedere il linguaggio che presenta questi corsi vi accorgerete da soli che è un linguaggio che già di per sé vuole raccontare spiegare e trasmettere una linea di pensiero precisa che fa comunque capo e riferimento al gender tra gli altri rimedi che dobbiamo e possiamo adottare per chi si trova appunto nelle scuole è quello di tenere lo sguardo vigile su quello che accade è quello di vigilare su quello che accade nelle aule dei vostri figli nei consigli di istituto e di tenere d'occhio la terminologia che viene usata nei corsi spesso insomma è una cosa impegnativa ma è una cosa che dobbiamo fare per le future generazioni anche perché la strategia che è stata adottata appunto 2013 2015 che si sviluppa sui quattro assi la strategia contro le discriminazioni di genere adottata nel 2013 per il bienio 2013 2015 per quanto riguarda la scuola è già praticamente in atto erano stati fatti anche i libretti educare alla diversità che poi sono stati ritirati grazie a pressioni provenienti da realtà diverse chi c'era in Parlamento qualche pubblicazione appunto che ha a cuore la verità e soprattutto un movimento di resistenza che è passato anche dalle piazze italiane l'ultima cosa che volevo dire è che la resistenza a questo tipo di linguaggio a quello che accade parte come a due punti principali primo non ci dobbiamo vergognare non dobbiamo vergognarci della testimonianza pubblica non dobbiamo smettere di indignarci di fronte a storie che sono contro l'uomo perché la storia di Bruce Reimer è una l'abbiamo raccontata ma la cronaca ci riempie continuamente di messaggi in cui ci presentano delle situazioni come situazioni felici e in realtà sono fatti a danno dell'uomo perché è la prima persona che viene danneggiata quando si afferma che chiunque di noi può essere uomo o donna indipendentemente dal sesso biologico ma in base alla sua percezione è proprio la persona che prova una ferita di questo tipo stiamo facendo il suo male e quindi stiamo sbagliando la resistenza va fatta a ognuno lì dove si trova quindi chi ha dei figli a scuola chiunque di noi ha delle relazioni chi per lavoro insegna chi scrive ma anche chi semplicemente va al lavoro a dei colleghi e tiene gli occhi aperti e vuole risvegliare le coscienze su tutto quello che abbiamo detto stasera e quello che continueremo a dire è una resistenza che potrà crearvi dei problemi come abbiamo visto anche negli ultimi giorni ma di fronte alla quale occorre non cedere con Benedetta domenica sera avremmo voluto parlare ma non abbiamo potuto farlo avremmo raccontato anche l'esperienza delle sentinelle in piedi che è una resistenza formata da cittadini liberi che vegliano in silenzio nelle piazze e che si occupano principalmente di risvegliare le coscienze la nostra in primis perché tutto questo linguaggio che attraverso i media ci arriva dentro inquina anche noi anche noi anche noi possiamo sbagliare possiamo non vedere le cose per quello che sono e per questo che occorre stare insieme e occorre prendersi anche lo spazio pubblico e il tempo pubblico siamo troppo lunghi? No ringrazio in particolare Raffaella perché parla per esperienza personale lei è la portavoce nazionale delle sentinelle in piedi no? Devo rettificare ah rettifica immediata guardate come siamo diligenti noi no 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 le sentinelle non hanno lo specifico non hanno ruoli perché sostanzialmente è una realtà creata da che è nata dall'amicizia io l'ho fatto ho partecipato come tanti che sono qui stasera ma non c'è nessuno che ha un ruolo da portavoce piuttosto che coordinamento questo perché chiunque può essere protagonista qui dentro e può fare la differenza a ognuno ha affidato un pezzetto io faccio la giornalista quindi racconto allora noi ringraziamo Raffaella perché è Raffaella ecco d'altronde lei ci ha detto la persona ci ha ricordato giustamente che la persona non può essere ridotta a un suo orientamento a una sua preferenza tantomeno agli atti che compie per carità cadere in questa forma di riduzionismo la persona non va rispettata e ricordatelo va amata per quello che è non per quello che fa per quello che è e non per quello che ha le parole i verbi i sostantivi hanno un significato preciso essere avere vero falso evidenza teoria opinione ricordatele perché qui ci giochiamo il nostro futuro lei ha parlato di alcune esperienze io ho ricordato alcune evidenze della biologia dello sviluppo Raffaella ha fatto alcuni esempi di antilingua anch'io ho fatto alcuni esempi di antilingua badate che tutti questi fenomeni deteriori di cui abbiamo fatto menzione non sono a caso non possiamo nasconderci dietro l'affermazione il mondo va così il mondo non va così il mondo viene fatto andare così dunque se in mezzo a noi ci fosse qualche studente universitario qualche ricercatore universitario perché non si prende la briga di proseguire gli studi eccellenti di Michel Shoyan professore merito dell'università di Lovagno di filosofia politica perché studiando frequentando e mettendomi in contatto con Michel Shoyan io ho imparato tantissime cose ho imparato in particolar modo due documenti che ho riportato nel mio testo pillole che uccidono i progetti documentati non le teorie le opinioni no no i progetti documentati che possono avere forse una qualche relazione con i fenomeni deteriori di cui noi abbiamo parlato badate l'uso preciso delle parole che sto facendo perché qui se no è una falsificazione continua nei confronti di quello che si dice bisogna fare un'attenzione e questo richiede anche un certo stress però domani è finita ma domani pare che si continui anche un'altra festa quindi perché come scriveva uno la festa è finita e intendeva parlare dell'inizio della crisi economica dentro la quale ci siamo ancora allora per amore di citazione e di precisione bibliografica io vi cito Federic Jaffe io capite bene che io non sono di madrelingua inglese quindi sono da Napoli quindi ho delle difficoltà activities relevant to the study of population policy for United States beh abbastanza bene memorandum to Bernard Berelson 11 marzo 1969 se lo volete vedere pubblicato lo trovate pubblicato in American Journal Public Health aprile 1969 allora dati tutti questi riferimenti pedanteschi e scolastici di cui dovete avere pazienza capite perché cito no meglio bisogna fare una promessa perché nessuno pochi pochi sanno chi è Federic Jaffe Federic Jaffe è morto nel 1978 diciamo solo a data di morte è stato vicepresidente dell'International Planet Parent Federation federazione noto per promuovere campagne di sterilizzazione e contraccezione e aborto in vari paesi tra cui anche gli Stati Uniti e la mea Jaffe per conto di questa organizzazione e indirizzandolo a Bernard Beretson che all'epoca era presidente del Population Council e per l'Organizzazione Mondiale della Sanità scrive un memorandum di proposte che hanno un obiettivo ridurre la fertilità umana cioè ridurre gli uomini sulla faccia della terra Federic Jaffe cioè è un neomaltusiano come ricorda Michel Choyan nel libro Evoluzioni Demografiche e quindi dà alcune misure per ridurre gli uomini sulla faccia della terra e dice guardate l'attualità rifarite l'attualità e capite che ci siamo in pieno cito ristrutturare la famiglia posticipando o evitando il matrimonio punto e virgola alterare l'immagine della famiglia ideale punto e virgola educare obbligatoriamente i bambini chiaro? incrementare percentualmente l'omosessualità educare a limitare la famiglia controllare la fornitura di acqua potabile è questo in Africa in Africa fanno così meno figli meno acqua meno acqua meno figli però più sviluppo e si capisce allora non bisogna neanche rassegnarsi dicendo no il mondo va così no il mondo viene fatto andare così e questo è un documento quindi invito coloro che hanno la missione di studio e di ricerca a ricercare su questo filone tracciato dal professor Michel Schoian di Lovanie in Belgio che è ancora vivente poi un altro grande rimedio è la contemplazione non solo l'amore del proprio corpo ma anche la contemplazione vi faccio un esempio che forse potrà far sorridere alcuni però è un fatto è un fatto accaduto contra facta non valet argumentum fino a martedì scorso io ero in Alto Adige ed era bel tempo si vedono i risultati non avendo capelli non avendo capelli i risultati si vedono facilmente poi porto un cognome no carbone chiaro allora mi avvicino a una stalla perché si sentivano le mucche e inizio a parlare con questo contadino evidentemente in italiano lui era di madrelingua tedesca parlo con questo contadino inizio a parlare del più del buono poi io lui porto per sapere se aveva figli nipoti volevo sapere se nelle scuole di Siusi era stato proposto qualche cosa relativo al gender lui dice no gli spiego un po' di che cosa si tratta che quindi un conto è l'identità sessuata di cui abbiamo parlato prima poi uno può cambiare tranquillamente il genere di appartenenza cioè comportarsi da maschio da femmina viceversa cambiare continuamente e lui mi dice no ma guardi padre ma è una follia ma i miei figli i miei nipoti vengono continuamente in stalla se noi applicassimo la prospettiva di genere alle mucche e al toro io nel giro di due tre anni la stalla la chiudo poi aspetta 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 non è finito non è finito perché mentre parlavamo arriva un gallo bellissimo ma un gallo bellissimo aveva tutto il primaggio giallo un po' di nero dietro ma bellissimo mai visto un gallo con tredici galline tutte bianche e poi mi dice guardi qui si fa anche prima se io applicassi la prospettiva di genere al mio pollaio dopo tre mesi io non ho più uova capite applicare la prospettiva di genere alla persona umana che cosa vuol dire ridurre la fertilità umana ridurre la popolazione umana sulla faccia della terra e il contadino altoastasino l'ha detto io chiudo la stalla nel giro di tre quattro anni e il pollaio tre quattro mesi finito chiaro allora però perché il contadino mi ha detto una cosa interessantissima perché non attaccala perché lui per lavoro per necessità porta figli e nipoti in stalla in pollaio quindi hanno il contatto diretto con le creature allora è necessario recuperare questo aspetto anche attraverso lo sguardo contemplativo quindi apprezzare la bellezza del creato anche se poi dopo c'è una finalità di carattere strumentale perché poi presto o tardi quel gallo o quella gallina avrà un'altra fine quindi le persone cosiddette semplici ci hanno molto da insegnare perché hanno questo contatto con la natura che noi per vari motivi più che legittimi abbiamo smarrito quindi abbiamo bisogno di recuperare ringrazio tutti aggiunge qualcosa l'amica Raffaella sì non so se sono proprio salvi li assiusi bisognerebbe andare a vedere perché secondo me la verità è che chi è adulto ha delle resistenze maggiori perché da bambino non è stato bombardato da tutti questi messaggi in modo così pervasivo già io mi accorgo se faccio zapping in tv se vedo delle cose mi indigno ma sto di tranquilla mia nonna probabilmente sarebbe saltata sulla sedia uno dei grandi veleni della nostra società è quella di assolutizzare la pulsione sessuale l'attrazione sessuale è quella di concepire l'amore come un sentimento una sensazione per cui mi sento così c'è questo trasporto l'amore amore ma l'amore non è una sensazione un'emozione l'amore è volere il bene dell'altro volere il bene dell'altro significa volere bene al suo destino a quello per cui è fatto non significa siccome sto bene con lui allora va tutto necessariamente bene l'amore è anche fatica è anche sacrificio e allora tutte queste menzogne che si propagano e si dilagano insomma in diversi in diverse modalità ma tutti insomma provenienti dalla stessa matrice attecchiscono anche perché c'è una forma di sentimentalismo malato per cui abbiamo completamente perso l'idea di che cosa sia veramente l'amore lo abbiamo disumanizzato la conseguenza alla lunga sarà quella che dice padre carbone che saremmo di meno sulla terra perché si faranno meno bambini ma già adesso ci sarà una società meno umana e questo è già grave di per sé per questo tutti quanti siamo chiamati a fare qualcosa ma per tutti intendo tutti cioè non è che perché uno studia fa il docente universitario e l'altro fa l'operaio non lo può fare no è all'incontrario cioè chiunque proprio nella vita quotidiana può resistere quindi quando arrivano dei messaggi sbagliati può dire no non è così non funziona così ovviamente per fare questo bisogna essere informati e formati perché la base del buon senso aiuta a riconoscere la realtà che non va appunto dimostrata ma va mostrata nella sua bellezza poi però per argomentare per dare conto delle nostre ragioni ovviamente bisogna informarsi e formarsi quindi questo è quello che mi invito assolutamente a fare attraverso i libri oggi qui ce ne sono tanti attraverso i giornali che danno un'informazione corretta per esempio qui al meeting c'è Tempi insomma sono tante le fonti poi se volete ci fermiamo ne parliamo così insomma ognuno davvero può fare la differenza lì nel pezzetto di mondo che gli è stato affidato grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti